Come sappiamo dopo la pubblicazione del decreto legge 11 2023 e della relativa legge di conversione non è più possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito per i bonus edilizi. Tra le poche deroghe a questo divieto c'è quello del bonus 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche per i quali ancora è possibile utilizzare appunto lo sconto in fattura e la cessione del credito. In questi mesi si vedono sempre più spesso annunci pubblicitari che promettono di ristrutturare il bagno o addirittura di sostituire gli infissi utilizzando lo sconto in fattura appunto al 75% per il bonus abbattimento delle barriere architettoniche. Ma siamo proprio sicuri che questa pratica sia corretta? E chi si sarà affidato delle indicazioni date da queste ditte? Nei prossimi anni sarà costretto a restituire allo Stato il credito fiscale maturato con i relativi interessi e sanzioni? Nel video vi mostro quali sono i miei dubbi e alla fine vi darò anche un consiglio. Quindi guardate tutto il video. Io sono Maurizio Della Porta e vi do il benvenuto. Aiuto le persone a difendersi dai terremoti. Mi occupo di progettazione strutturale di edifici nuovi, miglioramento sismico di quelli esistenti e di valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro. Bene, iniziamo. Iniziamo guardando subito che cosa dice l'articolo 119 ter che è contenuto all'interno del decreto rilancio 34-2020 della legge di conversione 77-2020 come è stata modificata dalla legge del 29 dicembre 2022 numero 197. Parliamo di detrazione per interventi finalizzati all'abbattimento, all'eliminazione delle barriere architettoniche. Nel comma 1 vediamo subito che queste spese, tutte le spese documentate, che sono sostenute dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per questo tipo di interventi su edifici esistenti possono essere portate in detrazione. La detrazione sarà da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nella liquota, come abbiamo già visto all'inizio, del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un aumentare complessivo che è suddivisa su queste tre tipologie A, B e C. stiamo parlando di 50.000 euro, quindi non più di 50.000 euro possono essere portate in detrazione al 75% per edifici unifamiliari e per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti che dispongono di uno o più accessi di autonomo all'esterno all'interno di un condominio. Oppure nella soluzione B 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari e 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. Nel comma 3 viene ricordato che questa detrazione fiscale spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti all'interno di edifici e delle singole unità immobiliari e infine, aspetto molto importante, nel comma 4, ai fini dell'accesso alla detrazione questi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche devono rispettare i requisiti previsti nel regolamento del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici numero 236 dell'89. Veniamo subito ad alcuni dubbi. Il primo dubbio che viene leggendo questo articolo 119 ter è ma se io faccio un intervento di abbattimento barriera architettonica all'interno di un singolo appartamento che però è presente all'interno di un condominio posso soffrire di questo bonus 75%? Perché come vediamo nelle spese massime abissibili delle lettere A, B e C si parla solo di edifici unifamiliari e delle unità funzionalmente indipendenti e il B e C si riferiscono a interventi sulle parti comuni di condomini perché come vediamo i 40.000 e i 30.000 sono moltiplicati per il numero dell'unità immobiliare. Allora, a mio parere, nell'attesa di un chiarimento degli enti ufficiali che speriamo arrivi presto a mio parere può rientrare in questo articolo 119 questo tipo di intervento in quanto come vediamo nel comma 3 gli interventi di automazione degli impianti si possono portare in detrazione sia sugli edifici sia sulle singole unità immobiliari e non viene specificato che quella singola unità immobiliare deve essere funzionalmente indipendente oppure una villetta insomma quindi a mio parere diciamo può rientrare ma vediamo di aspettare il chiarimento anche perché c'è un secondo dubbio nel momento in cui decidiamo sì, si può utilizzare il bonus 75% sulla singola unità immobiliare all'interno del condominio qual è la spesa massima ammissibile? anche qui a mio parere quella più logica sarebbero quelli della lettera A quindi 50.000 euro vedremo nel caso ci sarà un chiarimento attenzione aspetto fondamentale lo ripeterò più volte in questo video gli interventi per usufuria del bonus 75% devono rispettare i requisiti riportati nel regolamento di cui è il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici numero 236 dell'89 ricordatevi questo aspetto è fondamentale vediamo questa circolare 28e del 2022 dell'Agenzia delle Entrate dove l'Agenzia delle Entrate risponde o meglio chiarisce alcuni aspetti su lavori sulle singole unità immobiliari su parti comuni finalizzate all'eliminazione delle barriere tettoniche in particolare fa riferimento alla detrazione presente nell'articolo 16b scomma 1 lettera E del Tuir dove appunto con l'aliquota adesso attualmente al 50% possono essere portati in detrazione questi interventi diciamo è come dire parallela in questo caso rispetto a quella del bonus 75% sull'articolo 119 ter però sappiamo che comunque essendo praticamente la stessa tipologia di detrazione fiscale secondo me quanto è riportato in queste circolari vale anche per il 119 ter e non solo per l'articolo 16b scomma 1 lettera E vediamo subito nella prima parte dove richiama la circolare del 98 57 del 98 e ci ricorda che si tratta di opere che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sia sulle singole unità immobiliari e anche questo è un aspetto un po' che convalida a quello che vi dicevo prima e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali ad esempio la sostituzione di finiture pavimenti porte infissi esterni terminali degli impianti e il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici servizi igienici impianti elettrici titofonici impianti di ascensori il rifacimento di scale e ascensori l'inserimento di rampi interne ed esterne degli edifici di servoscale e di piattaforme elevatrici come vediamo qui si parla di infissi esterni e di servizi igienici attenzione che poi adesso però andiamo a vedere insomma la detrazione come vediamo con nell'altra circolare quella della 13e del 2001 sempre dell'agenzia delle entrate chiarisce che intanto la detrazione spetta anche se l'intervento viene effettuato senza la presenza di disabili all'interno dell'unità immobiliare o dell'edificio oggetto di lavori e questo è un aspetto anche questo interessante ma soprattutto tutti questi interventi compresi quindi anche la situazione degli infissi esterni il rifacimento del bagno devono comunque rispettare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 236 dell'89 quindi se questi interventi non rispettano questo decreto non possono essere qualificati come interventi dell'abbattimento barriere architettoniche potranno utilizzare poi dice qui l'agenzia delle entrate il bonus ristrutturazione anche se sono interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni e solo se sono interventi di manutenzione straordinaria sia sulle parti comuni che sia diciamo sulle singole unità immobiliari poi vi ho riportato in questo video anche una risposta sempre dell'agenzia delle entrate ad un interpello all'interpello 461 del 2022 ricordando sempre che diciamo le risposte dell'agenzia delle entrate sono vincolante per lei nei confronti dell'istante per tutti gli altri diciamo sono delle utili indicazioni fino a quando poi queste queste indicazioni ripeto non vengono portate all'interno di una circolare in questo caso però sono indicazioni che possono essere utili per i nostri ragionamenti cosa chiede l'istante l'istante intanto dichiara di essere proprietario di due appartamenti adiacenti e perché per consentire la figlia che è affetta da disabilità motoria vuole eliminare delle barriere architettoniche all'interno di questi due appartamenti ampliando la porta del bagno e della camera da letto chiaramente per poter permettere alla carrozzina di passare e ristrutturando completamente un bagno per soddisfare tutte le esigenze appunto richieste in materia di handicap sostituendo gli attuali sanitari con altri idonei che cosa chiede l'istante chiede sia le spese relative alle opere di ampliamento sostituzione delle porte con conseguente sistemazione della pavimentazione e modifica delle prese con adeguamento dell'impianto elettrico nonché per le spese relative alla ristrutturazione completa del bagno compresa la sostituzione dei sanitari e adeguamento degli impianti ed una parziale sistemazione dell'intonico può soffrire dell'articolo 119.3 della generazione fiscale prevista dall'articolo 119.3 che abbiamo appena appena visto cosa dice l'agenzia delle entrate vi ho riportato solo alcuni estratti quindi vi consiglio sempre di leggere in maniera completa cercandola in internet insomma si fa abbastanza in fretta l'agenzia delle entrate dice prima di tutto ci ricorda che ai fini dell'accesso della detrazione gli interventi devono rispettare il regolamento i requisiti previsti nel regolamento di cui il decreto del ministero dei lavori pubblici 236 del 89 per garantire l'accessibilità l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati ed edilizia residenziale pubblica sovvenzionata agevolata ai fini del superamento dell'eliminazione delle barriere architettoniche quindi ancora viene riportato questo importante aspetto ricorda inoltre che però con interpretazione di questi requisiti riportati nel decreto 236 del 89 non possono costituire oggetto di interpello perché loro rispondono solo aspetti di natura fiscale e conclude l'agenzia delle entrate dicendo che con riferimento al caso di specie si osserva preliminarmente che qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale 236 del 89 dunque possono essere qualificate come intervento di abbattimento delle barriere architettoniche l'istante potrà usufruire della detrazione di cui è citato articolo 119 ter per le spese sostenute nel 2022 la media del cinema della detrazione spetta inoltre anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei perdetti interventi quindi quale sostituzione dei pavimenti ed agguimento dell'impianto elettrico attenzione comunque questo è un aspetto che vale anche per tanti altri bonus quindi se uno fa un intervento come in questo caso di abbattimento delle barriere architettoniche tutte le opere che servono per completare quel tipo di intervento possono rientrare all'interno della detrazione ma stiamo parlando solo di quelle strettamente connesse quindi attenzione anche a questa valutazione opere strettamente connesse concludo ricordando ancora una volta attenzione attenzione che l'intervento di ristrutturazione del bagno o alcuni che offre diciamo anche quelli che dicono che possono anche montarvi gli infissi può rientrare questi interventi possono rientrare nel bonus 75% per abbattimento delle barriere architettoniche quindi la cosa importante che poi molto interessa è poter usufruire dello sconto in fattura o dell'accessione del credito può essere utilizzata solo se rispetta le caratteristiche tecniche riportate appunto nel decreto 236,89 quindi il mio consiglio concludendo è affidatevi ad un tecnico di fiducia prima di fare i lavori fate fare le opportune verifiche di rispondenza di questi interventi al decreto ministeriale 236,89 perché nel caso in cui queste opere non lo rispettino quel decreto l'agenzia delle entrate in caso di controllo vi chiederà di restituire tutto il credito più gli interessi più le sanzioni quindi attenzione è importantissimo io dico sempre direttore dei lavori sceglietelo voi quando fate un intervento il progettista i tecnici dovete scegliere voi sono i vostri i tecnici tutelano voi non tutelano l'azienda quindi dovete sceglierli voi e in questo caso uguale investite un po' di soldi per pagare un tecnico di vostra fiducia che fa queste verifiche preliminari prima di fare l'intervento per poter verificare di poter usufruire dello sconto in fattura con il bonus al 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche bene spero di esservi stato d'aiuto e aver chiarito alcuni aspetti di questo delicato aspetto su questi interventi bonus al 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche o meglio la ristrutturazione del bagno o la situazione degli infissi che vogliono legarlo a questo bonus del 75% quindi attenzione ancora una volta lo ribadisco se avete dei dubbi o dei commenti o delle cose da chiedere scrivete nei commenti se vi è piaciuto e se può essere stato utile questo video mi raccomando non dimenticate di mettermi un like e di condividerlo sui vostri social io vi aspetto al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.